hanno preso il via a sermi dei lunedì estate che proseguiranno fino a tutto agosto ottimo l'avvio con le piazze piene di gente ad ammirare fare qualche acquisto e degustazione nelle bancarelle il tema dei lunedì estate è colori e sapori in piazza nell'occasione è stata aperta alle visite la torre civica sono infatti terminati i lavori alle murature esterne di recupero funzionale dei vani all'interno e la risistemazione delle due campane nella cella all'ultimo piano che hanno ripreso la funzione di chiamare i cittadini alla convocazione dei consigli comunali a gruppi di dieci accompagnati da volontari della proloco in molti hanno atteso pazienti il turno per la visita guidata iniziativa che proseguirà anche per i prossimi lunedì estate